Noi vogliamo fare un film Un film? Un film di quello che fanno al cinema Voi e te? Noi Se l'avete un bacio riso tu Ce li avete gli attori Sapete chi è Scorsese? Non sapete chi è Marty Scorsese? E' così che avete rovinato il cinema Noi Senti, ti piacerebbe aiutarci a fare i provini a cervello attore? Stiamo cercando il nostro attore protagonista Voi siete registi? Sì, sì Allora, di cosa parla questo film? Una buona donna? Ci ritrova dopo 40 anni Questo lei non è cosa Oh, me l'avete fatto fare biondo, non mi prendete Ci dispiace ma sei troppo giovane No, no, io sono vecchio, sono vecchio dentro Chi è fra di voi il capo? Eh Sono Se torna e se mi stai con quello mio padre mi ammazza Mi ammazza pure lui Tu con cui stai? Gerardo 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 Arrivato nel tuo adesso Io fermo Se Catania non parte più Arriva l'americano, facciamo il film L'avete trovato? Era lui, sbrigiamoci Tra due giorni arriva e ancora non ci conta nulla Allora Sono io Sono io Bellissimo Sono io l'imperatore No, 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 no